art pod ascolti d'arte dalla collezione maramotti una collaborazione con doppio zero barry x ball matthew barney 2003 scritto di massimo marino fa una certa impressione vederla sospesa là nella collezione maramotti la testa di matthew barney segnata di rosso come se fosse sanguinante con due lunghe appendici come un collo svuotato della carne che lo lega al corpo una faccia immobilizzata nel freddo di una preziosa scultura levitanti al soffitto con un perno placcato in oro il volto di un amico ritratto dallo scultore nel prezioso onice messicano e trasformato in una specie di san sebastiano trafitto al capo da un solo dardo il cranio è una calotta sovrapposta al volto fissato in un'espressione intenta ma mobile allo stesso tempo sembra un reperto antropologico una testa conservata da una tribù di imbalsamatori della parte più nobile dei nemici o dei parenti antenati protettori la mobilità dell'autore di cremaster viaggio nei miti della società americana video magici di trasformazioni è recuperata pienamente dal gioco di luci che moltiplicano il riflesso della scultura su vari punti del pavimento algido orrore autoptico e potenza di metamorfosi questa scultura frutto di uno sguardo ammirato alla cultura italiana classica come le altre delle serie ritratti e capolavori è un misto di artigianalità e di tecnologia l'originale scansionato in 3d dalla persona o dal manufatto oppure duplicato immagazzinando dati da foto ad altissima definizione viene poi riprodotto nel materiale scultoreo e quindi decorato a mano dall'artista californiano figlio di un pastore evangelico in cerca sempre dell'unicità dell'individuo e della sua moltiplicazione clonazione del suo svaporamento nelle moltitudini dell'amico Matthew Barney esistono altre erme in dialogo con i volti e le nuche dell'autore in un altro gioco di specchi che moltiplica l'identità la scava la dissolve quelle teste mostrano l'intrico delle vene enfatizzate dal materiale come nei corpi degli scorticati della cappella di Raimondo di Sangro principe di San Severo là il modello è decisamente tardo barocco e esoterico qui le forme richiamano piuttosto uno scabro rigore medievale o primo rinascimentale ma il gioco con il volto e i lineamenti nell'opera di Barry Exbowl non si ferma qui del conte panza di Varese primo suo grande mecenate riproduce in serie il volto con espressioni lievemente diverse in una moltiplicazione decisa della personalità che è liquefazione dell'unico e sottolineatura attraverso l'ipostatizzazione del materiale petroso della mobilità individuale sempre con un sottofondo di fissità di immobilità che apre le strade al vuoto è casuale probabilmente ma curioso che nello stesso periodo in cui Barry Exbowl concepiva questi ritratti tra anni 90 e 2000 abbia girato uno spettacolo teatrale del chebecchese Denis Marlowe era una versione dei I ciechi di Metterling affidata a dodici maschere di volti umani sei di uomo e sei di donna gli uomini erano riproduzioni di un solo volto e così le donne allo spettatore apparivano sospese nel buio fisse per poi prendere vita con le voci di due attori fuori scena giochi di luce e proiezioni davano l'impressione che lentamente si trasformassero muovessero qualche muscolo parlassero cercassero di squarciare le tenebre cui erano condannati fu presentato al festival di avignone nel 2002 e poi in italia come quello di Barry Exbowl questo dispositivo sovrapponeva tecnologia le maschere parlanti e mutanti e artigianalità il teatro lo diceva chiaramente il sottotitolo dello spettacolo fantasmagoria tecnologica che cercava di forzare il teatro e le sue regole sottraendo la presenza dell'attore per andare a scoprire forze sotterranee là comunque superato lo stupore dell'impatto con i visi che incombevano alti su di noi che sembravano scrutarci senza guardarci o che sembravano vedere in un altrove oscuro quello che emergeva era il testo con il suo girare a vuoto intorno al dolore senza consolazione e speranza dell'esistenza nella scultura di Barry Exbowl risalta l'immobilità dolente ferita scarnificata neppure capace di urlare come invece il retro della testa bifronte dell'altra versione della scultura quella di Barney a specchio con la testa dell'autore l'immagine qui si perde arcaica nello sguardo verso la lontananza del niente moltiplicata dall'alto verso il basso dalle luci cielo di copia di stelle sul pavimento del museo prezioso trofeo di qualche barbara principessa che come turandot decapita gli incapaci di risolvere gli enigmi cioè tutti noi un'iniziativa con il sostegno di max mara la lettura è di ermanna montanari del teatro delle albe un'iniziativa con il nostro canale